C'è San Carabiniere che arriva in biblioteca, a un certo punto la segretaria gli fa buongiorno, ha puntato, come va? Dice bene, sono venuto a riportare il libro col letto, e le è piaciuto? Ma te devo dire la verità, per niente, cioè troppi personaggi per una trama inesistente. La segretaria si gira verso gli altri e fa, ah regà ho trovato il coglione che ci ha portato via l'elenco del telefono.